Sono ben 48 i precedenti tra i rossoneri e i nerazzurri. 22 vittorie lucchesi, 14 i pareggi e 12 i blitz nerazzurri. La prima sfida ufficiale risale al Girone Toscano del 1913-14. 2 per il Pisa e il 1 febbraio del 1914 grazie alle reti di Achille Brioschi, e di Stefano Scotti. Nella stagione 1920-21 storico successo nerazzurro. Gli uomini di Jinx si portano sul 4 grazie alla doppietta di Nicola Corsetti, e alle reti Ugo Nierucci, e di Mazzino Merlini. Quinta rete segnata poi nel finale da Alberto Merciari. Nella stagione 33-34 finisce il 1 gennaio con Angelo Pomponi a segno per il Pisa. A fine campionato tutte e due le compagini furono promosse in Serie B, anche se i nerazzurri solo dopo spareggio finale con Udinese, Parma e Piacenza. Due anni dopo, nel 35-36 il Pisa vince 2 gennaio grazie alla doppietta di Sergio Bertoni che poi trionferà a Berlino alle Olimpiadi. Nel 78-79 la rete di Giorgio Barbana regala il derby al Pisa e permette alla squadra di Romeo Anconetani di tornare in Serie B, mentre i rossoneri retrocedono in C2. Le due squadre tornano ad affrontarsi negli anni 90 con esiti alterni. Ultima gara in B nel 93-94. Il primo per il rossoneri grazie a Bruno Russo. In campo anche Eusebio Di Francesco, ed in panchina Eugenio Fascetti. Dopo il fallimento del Pisa Sporting le due squadre tornano ad affrontarsi in C1. Grazie a tutti.